C'è una proposta operativa che si può fare. Allora, l'IRAP cuba 25 miliardi, 10 li togliamo perché li paga il settore pubblico, quindi da una parte entrano e da una parte escono, non esistono. 15 le pagano le aziende private, di questi 15, 12 le pagano le società di capitali e per costoro nel documento siamo stati chiari. Via l'IRAP, che quindi comunque semplifica il quadro, e si alza l'IRES, vedremo se sotto forma di addizionale regionale, insomma. E questo è uno scambio che alle imprese sta bene, mi togli una tassa, va bene. Ed è anche utile per la crescita, perché come ricordava Tommasini, l'IRES colpisce solo l'utile. L'IRAP colpisce l'utile, la remunerazione del lavoro e la remunerazione del capitale. Siccome il lavoro e il capitale sono i fattori produttivi che fanno crescita, non è così bello avere un'imposta che mazzola i fattori produttivi che fanno crescita. Mancano 3 miliardi. Quei 3 miliardi, da 12 a 15, chi li paga? Li pagano le società di persone, le ditte individuali, gli autonomi, i professionisti, i più piccoli, che non sono soggetti l'IRES. Quindi loro non ce l'hanno l'IRES, non possiamo fare quello scambio. Come facciamo? 3 miliardi è giusto la cifra, circa, che c'è già nel bilancio dello Stato per la riforma fiscale. Ha ragione Andrea De Bertoldi, che non è tanto, ma perlomeno per stavolta abbiamo una riforma fiscale che parte con un piccolo gruzzolo. Lei dice sull'IRAP che già si avrebbe posto. Allora sapete cosa possiamo fare? Perché non anticipiamo questo pezzo al 2022? Cioè l'abolizione dell'IRAP, facciamola subito. Per i soggetti IREES c'è questo scambio, quindi c'è solo una semplificazione, ma una misura procrescita, perché ad esempio un'impresa che non fa utili, che è in perdita, non pagherà più quella tassa. Per le altre, per i più piccoli, è una riduzione netta di pressione fiscale. Cioè all'avvocato, all'ingegnere, all'architetto, alla piccola società di persone, cancelliamo 3 miliardi di IRAP. Questo lo possiamo fare in legge di bilancio 2022. Chi ci sta?